Ehi Semmy, dopo aver ammazzato qualche demone figlio di puttana finalmente siamo arrivati alla Twilight Itacon e siamo qui per salutare soprattutto tutto il meraviglioso staff e tutti i meravigliosi utenti di Supernatural Legend Sì Din, non è vero Semmy? Sì Din, hai ragione, l'unica cosa è che ricordati sempre che papà è andato a caccia e manca ormai da qualche giorno Il diario di papà è soprattutto se lo devono ricordare i temi Hai capito? Adesso abbiamo fatto la mia stessa Siamo qui, vi vogliamo salutare, vi vogliamo dare un bacio grandissimo e un abbraccio immenso a tutti voi i meravigliosi utenti a tutti voi i meravigliosi facenti parte del staff Staffini Staffini, benissimo Nel vostro bellissimo sito che abbiamo già avuto modo di visitare, di conoscere e vi facciamo ancora un sacco di complimenti Grazie Grazie anche per l'opportunità che ci avete dato di farci conoscere meglio Grazie a voi Un bacio grande a tutti voi Da Din e da Sedona